Supermont è un'azienda dinamica specializzata nella produzione di keg, contenitori per la spillatura al consumo di bevande. Una produzione che avviene in un moderno stabilimento, dotato delle più avanzate tecnologie e sono queste che rendono competitiva l'offerta dell'azienda. Al centro dell'attenzione c'è il cliente, considerato parte attiva e proponente. Proprio verso il cliente e la soddisfazione delle sue esigenze sono indirizzati tutti gli sforzi aziendali, orientati alla realizzazione di prodotti di qualità e alla erogazione di adeguati servizi di pre e post vendita. La fondazione dell'azienda risale ai primi anni 50, in un piccolo laboratorio per la lavorazione della latta, dove si costruivano i primi contenitori per il trasporto dell'acqua. Con il passare degli anni, con il mutare delle esigenze dell'economia e soprattutto con l'evolversi delle tecnologie, si passava via via alla produzione di contenitori per vino, olio, birra, succhi di frutta, altri tipi di beverage e anche per gas propano. Dalle prime produzioni ad oggi, Supermonte ha fatto un bel po' di strada e riuscita ad emergere nel panorama italiano della produzione di keg, conquistando la fiducia di prestigiosi clienti italiani ed europei e oggi rappresenta un gruppo industriale di ben 5 società e una di trasporti. La flessibilità del processo produttivo consente all'azienda di soddisfare i fabbisogni dei piccoli e dei grandi produttori di bevande. Dome Inox rappresenta un ulteriore passo del processo di diversificazione produttiva avviato dal gruppo imprenditoriale nel settore della produzione di contenitori in acciaio inox per alimenti. Dome Inox si integra con le altre due aziende del gruppo, Supermonte SAS, specializzata nella produzione di kegs standard DIM e Euro, e Monte Domenico, attiva nel campo della produzione di contenitori in acciaio inox per il trasporto e lo stoccaggio di vino e olio. Facendo uso esclusivamente di energia pulita, a bassissimo impatto ambientale, l'attività della Dome Inox consiste nella produzione di kegs in acciaio inox per la spillatura di vino, quale prima destinazione d'uso del prodotto, ma anche di altre bevande, compresa la birra, nella ristrutturazione restyling di vecchi kegs rivestiti in banda stagnata. L'attività della Dome Inox SRL si svolge in uno spazioso e innovativo stabilimento in cui avvengono tutte le fasi della produzione, taglio acciaio, stampigliatura, calandratura, imbutitura dei semi gusci, saldatura dei fusti, lavaggio fusti, decapaggio e stoccaggio. L'attenzione dell'azienda è finalizzata alla completa soddisfazione della clientela attraverso il continuo miglioramento della qualità, grazie anche all'impegno nell'innovazione di processo e di prodotto. Dome Inox SRL, consapevole dell'importanza che riveste la salvaguardia e la protezione dell'ambiente per le generazioni future, ha deciso di conformare i suoi processi aziendali ai dettati della norma 1 in ISO 14001-2004. Dome Inox SRL produce kegs che si contraddistinguono per la loro leggerezza e maneggevolezza unitamente ad un'ottima resistenza e durabilità. Gli stessi kegs si caratterizzano con i seguenti plus. Praticità nella spillatura al consumo. Manutenzione praticamente nulla. Leggerezza rispetto ai normali kegs standard DIN e Euro. Comodità e sicurezza nel trasporto. Perfetta impilabilità con ottimizzazione dello stoccaccio. Resistenza alla pressione. Igienicità e sicurezza nel consumo. A richiesta, i kegs Supermond possono essere personalizzati con il marchio dell'azienda cliente. Tra il fare e il bere, c'è di mezzo Dome Inox. Custodi della qualità e del gusto. Grazie a tutti.